Una buona giornata e benvenuti da Pino Delia e qui dalla redazione giornalistica di Radio Alfa. L'emergenza maltempo in provincia di Salerno, sempre in primo piano. Guido Bertolaso, ieri nel suo ultimo giorno a capo del Dipartimento della Protezione Civile, a Ponte Cagnano, nella sede dell'aeroporto, ha tenuto un summit con tutti i sindaci colpiti dall'alluvione. Larga parte della riunione è stata dedicata agli aspetti tecnici ed operativi per risolvere la grave crisi idrica che riguarda 14 comuni, compreso il capoluogo, a causa della rottura, come noto, della condotta principale dell'acquedotto del Basso Sele nel territorio di Postiglione. L'erogazione idrica dovrebbe tornare alla normalità per Natale, ma tutto dipenderà dalle condizioni del tempo. Solo per riparare la condotta occorreranno non meno di 5 milioni di euro. Martedì il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di calamità per la provincia di Salerno e nominerà commissario all'emergenza, probabilmente, l'assessore regionale alla Protezione Civile, Edoardo Cosenza. E proprio l'assessore Cosenza ha assicurato che la Protezione Civile regionale è pronta ad assumersi la responsabilità e a intervenire con i suoi tecnici, ma per risolvere in tempi brevi la grandissima emergenza idrica, che coinvolge quasi 500 mila cittadini, sono necessari i poteri commissariali e l'intervento economico del Governo. Nei prossimi mesi, secondo Cosenza, sarà necessario individuare un nuovo modello gestionale per risolvere le problematiche relative al patrimonio infrastrutturale idrico che necessita, dice Cosenza, di un profondo intervento in tutta la rete per evitare che possano sopraggiungere ulteriori improvvisi problemi in altre parti. A proposito di emergenza idrica, i supermercati sono stati presi letteralmente d'assalto a Salerno, soprattutto per fare incetta d'acqua, minerale ma anche di taniche. A Salerno e in altri 13 comuni rimasti senza acqua è forte la preoccupazione per questa emergenza e i disagi sono gravi, si registrano non solo per i residenti ma anche per le attività produttive. Se l'acqua continuerà a mancare, i contraccolpi saranno durissimi anche per i caseifici che producono la mozzarella di bufala. La gente a Salerno vuole sapere quando si potrà tornare alla normalità. Le prime stime, un mese per la riparazione dei guasti, sono allarmanti. L'acqua al momento, e non in tutti i comuni, viene assicurata per due o tre ore al mattino. E l'assessore regionale all'agricoltura, Vito Amendolara, ha effettuato un sopralluogo in numerose zone del Salernitano per valutare personalmente i danni causati ai territori rurali e alle zone agricole. L'amministrazione regionale sta predisponendo misure immediate per le aziende in difficoltà che hanno riportato danni a causa degli eventi atmosferici eccezionali. Le risorse a disposizione ammontano al momento a circa 5 milioni di euro da utilizzare per le infrastrutture e per la perdita di bestiame. In provincia di Salerno, spiega Amendolara, sono circa mille gli animali da allevamento morti e dispersi, 25 le aziende zootecniche evacuate e 4.500 circa gli etteri allagati. Dopo tre giorni di assoluta emergenza maltempo, nel Vallo di Diano, a sud della provincia, comincia a migliorare la situazione. Ma questo si registra oggi anche nella zona di Capaccio, tra le zone più colpite. Il livello dell'acqua del fiume Tanagro, straripato in più punti nei giorni scorsi, è sceso con la conseguenza che l'acqua defluisce in maniera più spedita. Numerosi terreni completamente allagati cominciano a svuotarsi e sono state riaperte al transito diverse strade interpoderali che erano completamente scomparse in quanto sommersi dall'acqua fuoriuscita dai numerosi e piccoli canali che confluiscono nel Tanagro. Ora si procede alla conta dei danni. Cambiamo argomento. Sette anni fa, il 12 novembre del 2003, la strage di Nassiri, all'attentato terroristico in cui morirono 19 italiani, tra cui 12 carabinieri e 9 cittadini iracheni. Una cerimonia commemorativa oggi si svolge a Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, il paese in cui era nato il sottotenente dei carabinieri Filippo Merlino. E ieri a Palazzo Sant'Agostino, sede della provincia di Salerno, si è svolta una cerimonia di intitolazione del Salone della Presidenza ai caduti salernitani, il colonnello Carmine Calò e il caporal maggiore Massimiliano Randino. Presente anche il presidente dei senatori PDL, Maurizio Gasparri. E con questa notizia è tutto per il momento qui da Radio Alfa. Un saluto ancora da Pino De Dia.